E rieccoci qui con un nuovo video ragazzi, io sono Cree e noi siamo tornati su eFootball2024 per andare a fare un altro paio di partite sull'account del Jack Ormai siamo fissi qui finché non finisco di provare tutte le kick che ha da provare Quest'oggi ragazzi, quest'oggi è il turno di Saviola finalmente, è qui in panchina che aspetta il suo momento Queste sono le sue statistiche ragazzi a vederlo, cioè fa paura, fa paura perché ha tutto Comportamento offensivo, finalizzazione, i piedi perché controllo palla, dribbling, possesso stretto non sono bassi Tantissima accelerazione, tantissimo controllo corpo, è abbastanza completo perché c'è tutto tra il passaggio alto e il colpo di testa Che lì si può dire? Sono veramente curioso di provarlo ma lo metteremo dentro al secondo tempo perché gli ho dato riserva di lusso Queste sono le sue abilità, riserva di lusso è l'unica interessante da poter sfruttare al secondo tempo Quindi lo metteremo, cos'è lui? Destro, probabilmente al posto di Neymar Sì, lì lo mettiamo punta così lì si attiva l'opportunista e sarei davvero davvero curioso di provarlo L'unica pecca è proprio l'altezza, come vi dicevo l'altezza è il colpo di testa Perché è alto 1,68 quindi è un nanetto, è alto meno di Messi, non lo so quanto è alto Messi Cioè adesso è alto meno di Messi ragazzi quindi questo vi fa capire molte cose Però non mi sembra per niente male, sono curioso di provarlo quindi andiamo a provarlo Primo avversario di quest'oggi Azzo Bellingham completamente giù ragazzi Bellingham completamente giù, non ci voleva Minchia Saviola tutto su, questo è bello eh Ronaldo tutto su, Drogba tutto su Partiamo con Drogba Partiamo col Didier E lì in mezzo Andiamo con Pedri Che però è un regista creativo Andiamo con Kimmich O con Gavi Non lo so, non lo so, non vi saprei dire L'ultima volta con Gavi l'abbiamo vinta entrambe Nessuno dei tre è su C'è De Bruyne che proveremo in un altro video Andiamo con Gavi dai Andiamo con Gavi Questa è la squadra del nostro avversario Affrontiamola Inizia così la prima partita Di quest'oggi Qui subito recupero Si può ripartire E io sono Raga io non c'è veramente Cioè bisogna proprio essere coglioni All'ennesima potenza eh Ma bisogna esserlo veramente tanto Io sto ancora giocando con possesso palla Non è possibile Essere così stupidi Provaci Didier Sono quattro video che continuo a giocare con possesso palla Ma non voglio giocare con possesso palla Semplicemente mi dimentico Mi dimentico di cambiare all'allenatore Bel passaggio di merda Raga possesso palla c'è proprio un modo Diverso di muovere ogni Cristo di giocatore Non riesco A leggerne bene i movimenti Qui ci arriva Neymar Che la smorbida è in mezzo per Drogba Tutto su Al primo tiro di testa Non sbaglia 1 a 0 Ragazzi Stona Camura Probabilmente meglio di Messi Big Time Infermabile completamente Traversa linea Imprendibile Bello Stona Camura Qua ragazzione Guardalo Porca di quella merda No no Non avevo neanche il tasto per correre schiacciato Neanche la manopola stavo tenendo in mano Lui si gira se la allunga Fa un po' quel cazzo che gli pare appositamente per perdere la palla Classiche animazioni che rovinano il gioco Semplicemente Cioè ma vi rendete conto di che azione ho tirato fuori Con una squadra che non è la mia E con possesso palla Che non è il mio stile Con cui non mi trovo eh Confermo anche adesso dopo aver tirato fuori un'azione del genere Che continuo a non trovarmi Perché è molto lento come Come stile Per costruire l'azione si intende ovviamente Ma che cazzo ha fatto Ma cosa porca di quella puttana ha fatto Cioè ma ci rendiamo conto di che cazzo succede in questo gioco O non ci rendiamo conto Cioè era letteralmente gol fatto Il pallone tra le sue due gambe Sono due le gambe di Neymar No non è che è una tre Sono due le gambe di Neymar Il pallone tra le sue due gambe ha fatto Tututututututu È ritornata lui Lui non riusciva a stopparla Non so il pallone era C'era dentro un vibratore Non lo so Non ne ho idea Comunque non poteva Tenerla in nessun modo Perché altrimenti L'avremmo chiusa Bel tiro qua di Drogba Bella merda schifosa lurida Tiravo meglio io probabilmente Peccato Peccato Due azioni sprecate Poi c'è Becke Vedi vedi Non scattano Dagliela Di prima Drogba 3 a 1 Ancora lui Ancora Didier Drogba E ora di far entrare Saviola Ok ragazzi Cambi fatti Non ci serve Il game changer Però Saviola può dirla su anche adesso Può dirla su anche adesso Partita in corso Con quella velocità Bravo Messi Ha fatto una bella giocata Messi Qua poi il passaggio in mezzo Per Totti 4 a 1 4 a 1 ragazzi Completamente chiusa Lo sapevo Lo sapevo vaffanculo Volevo buttarmi lì Volevo buttarmi lì Poi ho detto Perché diciamocelo Cioè se la tirano almeno angolata Questo non l'ha tirato male il rigore Ti girano meno le palle Se invece tu Ti butti E questi te la tirano in bocca E lì ti girano ancora di più eh Guarda cosa fa Saviola Guarda cosa Guarda Cosa fa Saviola Dai questo non era fallo Questo non era mai fallo Nella vita Gioco del cazzo Quando ci vuole ci vuole Questo è uno spalla spalla Semplicissimo Poi Dixon su Kante Kante è un bestione Dovrebbe avere 90 di contatto fisico Quindi Va bene Regaliamo Regaliamo il pareggio Regaliamo il pareggio Regaliamo Anche se siamo 4 a 2 eh Non 4 a 3 per fortuna Mamma mia Cosa ha sbagliato Madonna Ancora Totti Ancora il pupone Ancora lui Fa un'altra doppietta 5 a 2 per noi Madonna Saviola cosa fa Madonna Saviola cosa fa Guarda che passaggio Eh un gol l'ha fatto A tempo quasi scaduto Un altro gol Scusate l'ha fatto 4 No 5 a 3 5 a 3 per noi E finisce così ragazzi Finisce così Vittoria meritatissima Tripletta di Drogba Doppietta di Totti Che Ci Ci Regalano la vittoria Con 5 gol Tutti Uno più bello dell'altro Secondo avversario Di giornata Avers giù Non mi piace eh Avers giù Non mi piace Devo dirvi Però abbiamo Ronaldo tutto su Lo mettiamo titolare Ancora Gavi tutto su Lo mettiamo al posto Di Bellingham Per il semplice fatto Che è appunto Tutto su E Sembra portare bene Ogni volta che lo giochiamo Vinciamo Per il resto Va bene così Ragazzi Adesso fanno uno in meno Di over In realtà perché ho messo Contrattacco Finalmente ho cambiato lo stile Ho rimesso Contrattacco Però ogni volta All'inizio del video Vi faccio vedere Con possesso palla Al massimo Delle stats Che possono avere i giocatori Quindi questa è la squadra Del nostro avversario Affrontiamolo Inizia così La seconda partita Di quest'oggi Finalmente Ritorniamo al mio Contrattacco Ma vedi che la perdo eh Può anche essere Tutto è possibile Guardalo Primo tiro Ci mette la gamba Bancazzo Qui Ronaldo Avanti Per Neymar Che si guadagna Un bel calcio di punizione Si può ripartire veloce Passaggio avanti Di nuovo per Pupone Che la stoppa Doveva tirare di prima Lo sapevo Però attenzione Perché c'è ancora Mbappi Poi Neymar Che la smorbide in mezzo Per Ronaldo Ogni volta Vediamo delle cose assurde Nei miei video ragazzi Per quello che sono belli Per quello che dovete Mandarli a tutti I miei cazzo di video Perché succede sempre Qualcosa di strano Sempre delle robe assurde Oltretutto ragazzi Trovatemi No adesso veramente eh Non sto scherzando Trovatemi Una persona Un youtuber Qualunque cosa Aspetta eh Porca troia Che cazzo Ha preso Neuer Dicevo Trovatemi Un altro youtuber Che porta il football Qualunque persona Che porta questo gioco Che vi porta I contenuti Che vi porto io Cioè Letteralmente Il gioco più privo Di contenuti Della storia Del calcio Io riesco Ogni video A portarvi qualcosa Di nuovo Cioè ragazzi Sono due anni Da quando Porto video Che in ogni video Provo Un nuovo giocatore Provo un giocatore Quindi cioè Se voi andate Sul mio canale Avete un giocatore Non sapete com'è Non sapete se fa Ragazzi Troppo forte Troppo forte Il sium Che bestia Che assurdo C'ha l'istinto Del gol pure questo C'ha l'istinto Del gol pure questo Ma dove vinca la messa Palo palo gol Imprendibile Dicevo Trovatemi un'altra persona Che vi porta i contenuti Che vi porto io Questo gioco Non ha contenuti Li creo io i contenuti Cioè i contenuti In realtà sono Giocatori Cioè l'unica cosa Che esce su questo gioco Sono i giocatori Quindi non è che posso portare Qualcosa di diverso Ma in ogni fottuto video Io provo Bella ceo feca Io provo dei giocatori nuovi Se voi andate a vedere i miei video Aprite il canale Sono due anni Da due anni a questa parte Che io Ogni video Provo un giocatore nuovo È raro È raro che non ne provi Se non ne provi Perché o è una partita importante O è un evento O è una diretta Qui arriva il secondo gol Di Ronaldo Nel chill Mentre parliamo Ma CR7 fa anche questo E quindi niente ragazzi Se voi trovate un giocatore O ne avete Qualcuno in tribuna E siete interessati A sapere se è forte O non è forte O che cosa Ovviamente dovete Fidarvi del mio giudizio Se no Non ha senso neanche Guardare il video Se non per divertirsi Andate Aprite il mio canale Ci sono Una miriade di giocatori Ci sono migliaia di giocatori Che ho provato ragazzi Poi è vero che Li provo per due partite Quindi il giudizio È un po' affrettato Ma non posso neanche Starli ore e ore Per provare un solo giocatore A meno che non sia Uno di alto livello Uno scioppato Ecco Ne fai un altro? Porca puttana CR7 ragazzi 3 a 0 Mamma mia Il got Mamma mia Questo è free to play Questo Non è regalato Ma è regalato Cioè nel senso Non te lo sei ritrovato Nel gift box A caso Come l'altro Ma comunque Basta battere un paio di rigori E ce l'hai Sono senza parole ragazzi Sono senza parole Ogni tiro che fa È un cazzo di gol E questo Questo non ha l'istinto del gol Ma che cazzo di gol ha fatto? Anzi Tutte e tre I gol che ha fatto Uno di testa Uno di tacco Di suola Non so come cazzo ha fatto L'altro palo palo gol Cioè è mostruoso Anche gli assist vi fa Anche gli assist vi fa Tre gol un assist Veramente Fuori dal comune Comunque siamo 4 a 0 Se non quitta adesso Io metterei già dentro Saviola Perché se no non lo vediamo Messo dentro Saviola Passaggio in mezzo Ronaldo di prima Gave di prima Kylian Mbappé Si accentra Kylian Mbappé il passaggio Per Saviola Madonna che cazzo ha preso Noi eri un po' Buggato ultimamente Cioè Piglia i gol Ma perché questo Avrà preso una ventina di tiri in porta Però Fa delle parate assurde Van Dijk Ultimazione del primo tempo La palla rimane lì Finisce così Qui Mbappé Passaggio in mezzo Bello 1-2 Ancora Mbappé Vuole accentrarsi Può accentrarsi La smorbida di nuovo in mezzo Stavolta Ronaldo era indietro Poi Si gira Ma che cazzo ha preso Ma poi che movimento è Che movimento è Di quel portiere lì Alieno Non esiste un movimento del genere Guardalo Madonna Che cazzo di passaggio L'ha messo Eh vabbè Non sbaglia ragazzi Non sbaglia mai Ancora C'è R7 Ancora lui Poker Del GOAT Eh però ha fatto un gran passaggio Saviola eh E non me l'aspettavo Cioè Da Saviola ti aspetti Che sia uno che corre Dribbla E basta Qui arriva Rage Quit E Invece ha fatto un passaggio D'esterno Di prima Che l'ha mandato davanti al portiere Veramente una cosa assurda Bel 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 giocatore Veramente Veramente bel giocatore ragazzi Che a partita in corso Può davvero dire la sua Adesso gli ho messo io Riserva di lusso Quindi Cioè se ce l'avete Non dico che può partire titolare Ma in realtà può anche essere Dipende sempre da chi avete davanti In questo caso abbiamo Mbappé Che nonostante sia regalato È fortissimo Eh Neymar Che nonostante sia regalato È fortissimo Nel caso in cui Doveste Giocare con qualcun altro Cioè Messi Con cui io non mi trovo Ma è fortissimo Anche sto Messi Eh Quindi Nel senso Lo spazio potrebbe anche trovarlo Però Dipende da tanti fattori Quello che vi stavo dicendo È che Potrebbe Davvero dire la sua Un bel giocatore Lo continueremo ad usare Probabilmente dalla panchina Ovviamente Eh Perché può spaccare la partita Con quella velocità Quel dribbling È uno che ti salta l'uomo In realtà ha anche una buona finalizzazione Quindi Non è che dici Corre dribble e basta Ti aspetti quello Ma in realtà ti fa anche altro In questo caso Lui ha 72 Passaggio a rasoterra Ma di prima ha mandato Ha mandato al bar tutta la difesa Ronaldo davanti al portiere Vabbè Assurdo D'esterno poi Forse neanche col suo piede Non lo so Quindi Sono soddisfatto Ho fatto delle belle partite Non l'abbiamo visto tantissimo Ma tanto lo vedremo anche nei prossimi video Quindi Spero che questo video vi sia piaciuto Ragazzi Lasciate like Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci rivedremo in un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti